1-0 in questa gara fra frustrati squadra di calcetto va sorgente con un destro a giro pallone che termina fuori c'è Alessandro Olmo che chiede lo scambio a Santo Paolo, lo ottiene chiama l'indicazione, c'è Torino fra le linee, ancora Gianni Torino, fermato da finita pallone fuori va baratto la rimessa laterale si propone anche Olmo, servito lo scambio con Baratto, ancora Baratto, attaccato da Gianni De Lucia se ne va Baratto, lo ferma De Lucia in fanno laterale seguiamo questa rimessa Baratto si interisce, facciamo somma, palla per Torino, gira Torino pallone alto sopra la traversa tocco di Prodomo, vicino per Mariconda palla in verticale, c'è c'è sorgente Paduano termina fuori rimessa per la squadra di calcetto va Artina il tocco per Olmo prova ad andare sorgente, sorgente se ne va, sgusce in mezzo a due Artina lo ferma, ancora Paduano sguscevole ancora Paduano, su secondo Paolo, Mariconda di testa sorgente, 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 sorgente la palla sulla linea, esce Baratto, palla dal piede occhio a controviede fallo commesso da sorgente è la cipolla già battuto c'è Luciano Somma prova a servire Olmo serve veramente, manco la chiavica palla che termina fuori no, no, non farla ma ci farà sì va De Lucia col mancino pallone in verticale lo mette giù sorgente va a girarsi sorgente Santo Paolo la blocca senza patemi qua Santo Paolo palla per Olmo destra da Baratto attaccato De Lucia ancora Baratto si divincola bene De Lucia in pressing non lo molla c'è Torino che prova ad andare col destro Prodomo con i piedi Mariconda e poi Prodomo la fa sua ancora Prodomo la mette giù sorgente andrà in mezzo a due De Lucia palla per Artina ancora per Torino chiede 1-2 a Somma lo tiene ancora Torino è più veloce da finita Torino chiuso in calcio d'angolo Prodomo a lunghissimo rinvio madonna che tocca la rete sarà rimessa laterale una squadra di pesi leggeri palla per Baratto seguiamo l'ultima azione ancora Baratto Olmo verticale da Somma De Lucia palla per Paduano ancora Paduano in verticale sorgente andrà la blocca seguiamo l'ultimissima azione con Olmo ancora Olmo in progressione chiede 1-2 con Torino padrone fuori 1-1 quindi anzi 1-0 fra frustrati squadra di calcetto occhio al tiro di sorgente seguiamo quest'azione c'è Maricondo che si inserisce vuole fare tutto da 6 sorgente infatti vai della palla diciamo 1-0 per i frustrati intrompiamo qui il nostro collegamento eccoci con Fulvio sorgente vittoria per 6-3 contro la squadra di calcetto un po' rimaneggiata però tre punti importanti che ne pensi? sì sì tre punti importanti la partita è difficile perché loro giocano molto bene a calcetto in effetti dai passaggi invece noi siamo dei controvedisti e fortunatamente abbiamo giocato bene i spazi sono aperti ho avuto i controvedi micidiali senti ora iniziano i playoff obiettivo? grazie a tutti